Loro sanno che cos'è la poesia. La poesia, naturalmente in poesia, si esprimono, si stenta di esprimere amore o dolore. Cioè si esprimono dei sentimenti. Il modo nei quali si esprimono questi sentimenti dipendono dalla fantasia di chi li esprime. Dalla fantasia di chi li esprime e anche dal momento storico. Dal momento storico nel quale queste poesie sono espresse. Ora, che cos'è lo spirito dei tempi? Uno storico, Mayneck, diceva Io non lo so spiegare, ma certo chi non sa o non sente che cos'è lo spirito dei tempi è un uomo che non esiste. Grazie. Grazie. Grazie.